Capitolo IV di Le storie del castello di Trezza di Giovanni Verga Questa è una registrazione LibriVox ed è di dominio pubblico, letto da Francesca Roma. Capitolo IV Il barone fu insolitamente sobrio a cena quella sera. Don Isabella andò a coricarsi senza dire una parola, senza fare un'osservazione, ma pallida e seria. Don Garcia, quando si fu accertato che il rosso e il bruno erano già al loro posto, andò a letto e disse alla moglie, motteggiando, — Stanotte vedremo se il diavolo ci lascerà la coda. Donna Isabella non rispose, ma don Garcia non russò e dormì di un occhio solo. Mezzanotte era suonata da un pezzo. Il barone aveva levato il capo, ascoltando i dodici tocchi, poi s'era voltato e rivoltato per letto due o tre volte. Aveva sbarigliato, infine s'era addormentato per davvero. Tutto era tranquillo e taceva anche il vento. Donna Isabella, che era stata desta sino allora, cominciava ad assopirsi. Ad un tratto un grido terribile rimbombò per l'immenso corridoio. Era un grido supremo di terrore, di delirio, che non poteva riconoscersi a qual voce appartenesse. E non aveva nulla d'umano. Nello stesso tempo si udì un gran tramestio. L'uscio e la finestra della camera furono spalancati con impeto, quasi da un violento colpo di vetro. E a lume dubbio della lampada parve che una figura bianca in un baleno attraversasse la camera e fuggisse dalla finestra. La baronessa, agghiacciata dal terrore fra le colteri, vide il marito slanciarsi dietro il fantasma con la spada in pugno e saltare dalla finestra sul ballatoio. Egli correva come un forzennato, seguito da Bruno, inseguendo il fantasma che fuggiva come un uccello, sull'orlo del parapetto rovinato. Entrambi, coi capelli irti sul capo, videro al certo. Non fu illusione. La bianca figura arrampicarsi leggermente per i sassi, che sporgevano ancora dalla cortina, al posto dove era stata la scala, e sparire nel buio. — Per la madonna dell'ognina! esclamò il barone dopo alcuni istanti di stupore. Lo toccherò con la mia spada, o che si prenda l'anima mia, se è il diavolo in carne d'ossa! Don Garzia non credeva né a Dio né al diavolo, sebbene le rispettasse entrambi, ma senza saper perché, si ricordò delle parole dettagli da Donna Isabella la mattina, e fremette. Donna Isabella non gli aveva fatto la più semplice domanda, o si spaventasse a farla, o la credesse inutile. Il barone, del resto, era di tale umore da non permetterne talune. L'indomani però disse egli risolutamente che non intendeva dormire più oltre in quella camera. — Aspettate ancora stanotte, rispose il marito, farò buona guardia io stesso, e se domani non riderete delle vostre paure, vi lascerò padrona di far quel che meglio vorrete. Ella non osò aggiunger verbo, soltanto qualche momento dopo gli domandò, di che malattia è morta la vostra prima moglie, messere? Ella guardò bieco, e rispose, di mal caduco, Madonna. — Io non avrò cotesto male, vi prometto, disse ella con strano accento. Don Garzia, insieme a tutti i vizi del soldato di ventura e del gentiluomo brigante, ne avea la sola virtù, una bravura a tutta prova. Egli fece quel che non osava più fare Bruno, il terribile Bruno, e per cui era mezzo morto anche il Rosso, giovanotto ardito, se mai ce ne fossero. E passò tre notti di seguito nel corridoio, senza batter ciglio, senza muoversi più che non si muovesse il pilastro al quale stava appoggiato con la mano sull'elsa della spada e l'orecchio teso. Il vento sbatteva le imposte della finestra, che era stata lasciata aperta per ordine suo. I gufi svolazzavano sul ballatoio, i pipistrelli s'inseguivano stridento berlandito, il lume della lampada riverberavasi pel vano dell'arco della sala delle guardie, e sembrava vacillare. Ma del resto tutto era quieto, e Don Garzia sarebbe si stancato di passar le notti in sentinella, come un uomo d'armi, se il ricordo di quel che avea visto coi propri occhi non fosse stato ancora profondamente impresso nella sua mente. E se una parola della moglie non gli avesse messo in corpo una di quelle preoccupazioni, che non lasciano più dormire né lo spirito né il corpo, uno di quei dubbi che imperiosamente domandano uno schiarimento. La sua coscienza dormiva ancora, ma le sue reminiscenze, taluni circostanze lasciate passare inosservate, si svegliavano ad un tratto. Gli serizzavano dinanzi in forma di tal sospetto, che Don Garzia, zotico, brutale, dispotico signore, scettico e superstizioso ad un tempo, ma in fondo sinceramente barone, vale a dire ossequioso al re e alla chiesa, che lo facevano quello che egli era, se ne sentiva padroneggiato, e provava il bisogno di scioglierlo con la persuasione o con la spada. Era la quarta notte che Don Garzia attendeva. Il mare era in tempesta, il tuono scuoteva il castello dalle fondamenta, la grandine scrosciava impietosamente sui vetri, e le banderuole dei torrioni gemevano ad intervalli. Di tanto in tanto un lampo solcava il buio del corridoio per tutta la sua lunghezza, e sembrava gettarvi un'onda di spettri. Tutto a un tratto il lume che era nella sala delle guardie si spense. Don Garzia rimase al buio. Le tenebre che lo avvolgevano sembravano stringerlo ed opprimerlo da tutte le parti, soffocargli il respiro nel petto, la voce nella gola, e inchiodargli il ferro nella guaina. Spaventosi. La ferita era stata mortale, e non sanguinava quasi. Solo alcune gocce di sangue le erano uscite dalla bocca e le rigavano il mento. — Avevi ragione, Bruno, disse il barone con voce sorda. Non volevo crederci ai fantasmi, le credevo sciocchezze di femminucce, ma adesso ci credo anch'io. — Bisogna buttare in mare questa forma della mia povera moglie che ha preso lo spirito maligno e senza che nessuno al castello e fuori ne sappia nulla, che sarebbero capaci di inventarci su non so quale storia assurda. Bruno capiva, e non ebbe bisogno d'altre spiegazioni, però il suo signore non dimenticò di aggiungere sottovoce. — Senti, vecchio mio, sai bene che se la cosa si risapesse così come sembra essere avvenuta, io sarei stato bigamo e peggio, e la tua testa sarebbe assai malferma sulle tue spalle in fede mia. In chiesa, ricorrendo l'anniversario della morte di donna Violante, le furono resi dei pomposi e costosi suffragi. Però, non si sa come, cominciavasi a buccinare al castello e fuori, che la cosa non fosse proprio avvenuta come sembrava, e come don Garzia non voleva che sembrasse. E Bruno, il quale perciò cominciava a dubitare che la sua testa non fosse ben ferma sulle spalle, un bel giorno, a caccia, mise per distrazione una palla d'archibugio fra la prima e la seconda vertebra del suo signore. Donna Isabella, che aveva una gran paura del mal caduco, era andata a villeggiare presso la sua famiglia, e siccome l'aria le faceva bene, non era più ritornata. Fine del Capitolo Quarto